Buongiorno ragazzi, allora dai, oggi il giorno che finiamo stuccando il citofono che ha portato via un tempo inenarrabile perché sono seguiti i ragionamenti, è seguita la domotica e roba finiamo il citofono e se non diluvia, perché sta per venire giù, dirà di Dio, lo montiamo anche fuori io ve lo dico, ma ve lo dico proprio come una confessione che si può fare a un prete sono in fissa con la domotica, ma ve lo infissa tanto avevo detto che avrei fatto solo la domotica del laboratorio e casa sarebbe rimasta così perché tanto chi se ne frega di casa, non lo usiamo niente infatti avevo quattro schede mal cagate divise per ogni stanza di casa alla fine ieri mi sono messo a fare anche la dashboard di casa quella addirittura che ci vive, le persone, le robe e sono preso durissimo però di questa parte non farò niente, ve l'ho detto adesso questa settimana arriviamo a compimento oggi finiamo il citofono, sabato, venerdì, sabato magari anche domenica facciamo qualcos'altro e poi ho voglia, più che altro ho bisogno di fare qualche lavoro vecchia scuola cioè manuale, di fare gnameria abbiamo un paio di cazzate da sistemare lato casa, tipo le lentine che vi ho fatto vedere ieri e poi vorrei fare qualcosa lato casa, o meglio vorrei iniziare a fare roba lato casa quindi ci inventiamo qualcosa lato casa finito questo lavoro qua allora, il citofono, abbiamo un problema estetico il problema estetico nell'ordine del fatto che così fa cagare e ho capito una roba che esattamente come per quello la copertura sotto in realtà ho capito un grazie al cazzo cioè la copertura sotto è plastica che poi viene coperta con qualcosa di più, diciamo, qualitativo noi dobbiamo fare lo stesso quindi tutto questo è solo per noi struttura adesso dobbiamo fare qualcosa che ci dia l'estetica e allora ho pensato semplicemente di lasciare nascosto questo un po' di laser, un po' di fresa e facciamo una roba che ha, ripeto, solo valenza estetica perché alla fine i citofoni sono questi cioè sono dei bottoni con un nome quindi bisogna dargli solo una valenza estetica quindi mi appresto a fare una cosa così dove? tutta questa parte qua sopra è alluminio ok? la lucobond questo è il nero col solito trucchetto che abbiamo usato per le etichette così può essere anche cambiato e tolto ma diciamo che questo qua è il safe che poi è un safe tra virgolette perché nel caso si rompesse il monitor questo ha valenza nel caso andasse a puttare tutto l'SP non funziona neanche il bottone però tralasciamo questo sotto invece non è questo ma lo portiamo a pari come distanza usando un plexi nero opaco così viene tutto insomma so che verrà ficcante quindi accendo il laser e taglio la dima per la lucobond e c'è un po' di passaggi cioè la dima per la lucobond fresare la lucobond poi tagliare il plexi opaco e poi tagliare la pellicola sulla lucobond con un colpo solo perché ho pochissima pellicola ultima nota e poi mi metto a fare il lavoro due note una uno di voi ieri mi ha dato un consiglio top per quanto riguarda l'iscatolamento di questa roba qua e la resa stagna per esperienza mi ha detto rendilo si stagna ma lascia da qualche parte un buco qualcosa dove possa passare aria altrimenti poi dentro col calore la differenza di temperatura ti fa condensa davanti al plexis e il consiglio che mi ha dato è di una semplicità quasi banale ma è intelligentissimo lasciare semplicemente da qualche parte tra una cornice e l'altra dove metto le neoprene un pezzettino magari sotto dove non piove un pezzettino senza neoprene giusto perché ci sia un minimo di ricircolo d'aria consiglio intelligentissimo non ci sarei probabilmente arrivato da solo avrei fatto un foro davanti al plexi o qualcosa questo qua è stato un consiglio veramente top la semplicità al potere altra cosa questione di ieri sulle telecamere e farsi un nvr su un pc interno allora mi avete detto che vorreste vedere anche quel lavoro lì allora quello è un lavoro che io farò e farò semplicemente perché ho già le risorse nel senso non devo neanche usare stamattina presto ho dato un'occhiata al mio server di casa il mini pc scusate il mac mini che vi ho fatto vedere ieri e di fatto quello una volta nella vecchia casa era un server sia di lavoro che di casa poi per questione di risorse ho separato le due cose e adesso l'unica funzione che ha è far girare plex plex che fra l'altro non viene neanche più usato perché con l'avvento di netflix paramount e tutto non uso più praticamente plex quindi lascerò vivo plex che occupa pochissime risorse e userò quel mac mini e con un docker installerò un software di videosorveglianza che gestisca tutte le camere gestisca gli allarmi gli avvisi i transiti le cose e poi esponga i sensori su home assistant così il carico di questa molle di lavoro è deputato al docker sul mac mini non sullo stesso server di home assistant sempre per il principio di video ed impera uno di voi mi ha anche segnalato un altro servizio che può essere installato che è un servizio della parola sbagliata che può essere installato tramite docker e potrei anche quello metterlo sul mac mini che si occupa appunto di verificare la disponibilità di un indirizzo IP facendo il ping il discorso di ieri forse anche quello potrei integrare anche quello insomma quel mac mini li ha molta potenza perché è un mac mini server e non viene sfruttato tanto vale usarlo come compagno del server di home assistant per avere risorse separate su cose separate se ve lo farò vedere o no questo lavoro delle telecamere sinceramente non lo so sta diventando un po' troppo un po' tanto tecnico lo show ultimamente mi rompe ho bisogno di tornare un po' ai lavori semplici e manuali come la reception e quella roba lì allora avviamo questo mac mini della merda che invece andrà sostituito perché andrà messo qua un pc vero perché questo mac mini qua che è scadente con suo parallel che virtualizza window è un chiodo ho bisogno di metterli un pc ce l'ho di là devo avere il tempo di mettere assieme il pc non mi basta mai il tempo ragazzi iniziamo a ritagliare le cose dai allora l'obiettivo a livello di design passatemi il termine è quello di creare non solo una roba meno piatta in termini di colore ma anche una roba meno piatta in termini di volume e spessore non una patella piatta e basta quindi mi sono tagliato la mia sagoma al laser e adesso posso andare a tagliare la lucubond per tagliare la lucubond il metodo è esattamente lo stesso lo stesso metodo utilizzato per i vassoi della sala della ficcanza quindi fresa con anello a copiare in questo caso abbiamo saltato la versione della parte del taglio che non serviva la fresa con sempre al solito con il raggio minore possibile immaginabile che io abbia che è questa con anello a copiare adesso siccome io sono un po' cretino non avendo pensato prima e progettato prima io non ho fatto questi raggi qua sulla base della fresa come invece avrei dovuto essere però siccome sono cretino ma anche fortunato il raggio è più o meno il medesimo quello che succederà praticamente è che con molta probabilità quando avrò andrò a mettere il plex si vedrà quello lì però non c'è problema ora anello a copiare cambiamo il codolo magari e andiamo a fregare questo qua mi tocca fare un foro mi tocca fare un foro perché devo entrare dentro con la fresa allora ci siamo ecco i due pezzi quello sotto va ovviamente ancora la pellicola così ho una variante di colore e anche una variante di struttura perché ho un gradino ok ora il monitor dovrebbe idealmente essere centrato in questo spazio per essere tutto equilibrato vedete che c'ha il culo un po' basso sembra un po' che abbia le chiappe basse però questo per me è inevitabile perché il monitor sopra ha tutta la sua elettronica e quindi ho dovuto dare l'abbondanza tenete conto che è questo lo spazio che io avevo a disposizione non questo se no sarei potuto andare più su per ovviare a questo problema mettiamo il logo qua quello fisso così almeno non è che lo ricentri però riequilibria un po' il tutto quindi stesso discorso dei vassoi squadra che vince non si cambia pezzo di vinile e lo tagliamo al laser ora qualcuno dirà sicuramente che il vinile all'esterno si stacca che prende acqua si scolle tutto sopra c'è la tettoietta sopra ancora c'è il davanzalino non piove fisicamente sul citofono sono tutte accortezze ma va bene così eccolo qua ora anche se non centrato è già tutto più equilibrato poi dovete tenere conto che qua c'è ancora questo che fa da richiamino così facendo io ho una tridimensionalità una variante di colore riequilibrio un po' il fatto che lo schermo sia spostato ma soprattutto lascio libero lo spazio qua per il dove è eccolo qua per l'NFC che viene tranquillamente al di fuori di questa riga qua perché viene qua e quindi può essere letto ho già fatto la prova viene letto tranquillamente attraverso il plexi la plastica e tutto io avrei potuto anche forare completamente questo ma non avevo ancora deciso come farlo ora il pezzo che manca cos'è noi qua siamo messi così ok il pezzo che manca è il pezzettino di plexilas adesso è tutto piazzato un po' male che va davanti qua mi piace molto che lo schermo sta dietro ma davanti per protezione dobbiamo mettere un pezzo da incastrare dentro questo spazio qua nei 3 più 3 io ho un plexi da 4 va benissimo al massimo rimane rientrato lo porto su per farlo però non posso far comandare più il mio disegno che ho fatto devo far comandare questo tipo di curva che fra l'altro era anche era anche migliore quello determinato dalla fresa perché mi ha comandato il diametro della fresa la fresa che è la 421000p perché 0006p sulla confezione non è indicata il suo diametro perché è una fresa con anello a copiare e quindi è più importante avere l'altezza però sia sul catalogo freud che su store utensili dove vi dico sempre di comprare e questo è il codice sconto trovate tutte le serie tecniche il sito di store utensili dire che è fatto bene è riduttivo perché non è il solito e-commerce che vi dice cosa comprare dove vi dà anche tutte le qualcuno si è messo qua scritto tutte le serie tecniche quindi su le flash stream brit quelle con anello a copiare ci sono tutte le misure noi abbiamo la 4216p e abbiamo tutte le misure e scopriamo che la misura che ci interessa a noi che è la D attenzione la D non è la C la C è il diametro del cuscinetto la D è il diametro del tagliente in questo caso è lo stesso però quando guardate queste schede fate sempre attenzione perché a volte il cuscinetto è più grande mai più piccolo ma no è vero anche più piccolo in caso di quelle per fare le scanature per fare i canali a volte è più grande o più piccolo comunque date un occhio alle due e noi così sappiamo che il D per noi è 9,5 9,5 di diametro quindi 4,75 di raggio adesso che lo so io posso tornare nell'illustrator prendere questo e dagli il diametro che mi serve così almeno di là nel laser lo taglio poi dovrò in realtà un po' io posso aumentare ridurre il diametro dovrò un po' fare delle prove perché si incastri bene perché il laser comunque qualche micron porta via quindi espandere rientrare farò due prove però quando ce l'ho avrò lì davanti un bel pezzo di plexilas che mi protegge lo schermo poi quando avrò messo tutto il registro e l'attaccato questo sarà praticamente fatto più o meno dobbiamo ancora sistemare quel casino di cavi ecco qua 5 prove giusto per calcolare la tolleranza purtroppo è un po' come la stampa 3D quando si vuole fare l'intarsio con laser perché anche il legger laser per quanto è risorio ha un suo spessore poi dipende da quanto è pulita la lente e la distanza questo adesso è così si incasta perfettamente anche in quello sotto e poi verrà appiccicato tutto davanti è anche già semi illuminato ci siamo quindi ho tutti i pezzi che mi servono e tutto il bordello del mondo ora io direi ho fatto anche questo alla fine ho preferito scegliere di alimentare con la USB l'SP non mi andava a risaldare i cavi vorrei lasciare tutto il più libero possibile di essere sostituito e cambiato non ho ancora fatto l'automazione che mi dice quando questo è offline mi dà la notifica perché la vedo dopo io direi che c'è abbastanza bordello quindi mi sparo un caffè metto a posto tutto sto delirio metto assieme sta roba e poi se non piove vado fuori a montarlo fra l'altro oggi aspetto anche una persona per cui testeremo subito il campanello se non arriva prima voi intanto io ci metterò un po' perché voglio anche girare il montaggio lì pensate cosa volete fare sulla domotica cosa volete affrontare cioè fino a fino a lunedì poi dopo basta quindi non è basta in assoluto poi la riprendiamo come vi ho detto però cosa facciamo di domotica oggi dopo io vorrei tanta roba da fare però è roba per casa e la domotica di casa non è poi così interessante fra l'altro devo anche andare a settimana prossima a confermare il furgone su cui metteremo tanta domotica qualcuno l'altro giorno mi ha detto di ricordarmi di togliere lo Shelly 1 dal furgone che avevo messo per il monitoraggio della batteria non ho messo uno Shelly 1 nel furgone per il monitoraggio della batteria il monitor della batteria del furgone attraverso l'integrazione Ford Pass un'integrazione che c'è già di default non è la domotica ma è il tango del furgone c'è un'integrazione non ufficiale quello nuovo però vedremo di fare qualcosa di più interessante con la domotica e vedremo questo citofono è avvolto da un arone di sfiga che no in realtà sono stato io lungo a farlo però di fatto oggi è morto lo schermo in realtà non è morto lo schermo ma sembra che sia morto questo il modulo i2c il bus perché non riesce a trovarlo non lo trova i pin sono giusti i due verificati sono gli stessi ho provato anche a cambiare le rannare ma questo sembra morto eppure la spia è accesa cioè funziona però non rileva niente non è un problema di contrasto di fatto lui funziona tutto perché gli sta sparando sullo schermo le scritte però non si vede assolutamente niente cazzo era un passo dovevo solo montare tutto allora ho avuto un attimo di sclero la voglia di dar fuoco a tutto e lasciare fuori quel citofono lì è stata fortissima però alla fine ho fatto un attimo mente locale mi sono un attimo acquietato e ho fatto delle verifiche praticamente sono andato in internet a vedere come si fa a verificare la scheda 1c che dovrebbe scusate i2c che dovrebbe tradurre il segnale del video in soli 4 pin e come fare le verifiche nel caso fosse bruciata e la sfiga ha voluto che sia bruciata cioè la sfiga fatemi finire il racconto si è bruciata e nonostante il led fosse acceso perché praticamente sui pin dei dati non passava più niente alla fine ho guardato e ho scoperto che sono io lo stronzo quando ho fatto l'ultimo collegamento di prova prima di mettere insieme il citofono ho collegato la USB al trasformatore ok ho collegato la USB ho acceso il trasformatore e poi ho regolato la potenza peccato che quando l'ho acceso era già tutto collegato e lui era 24 volte quindi ha di fatto brasato completamente la schedina non ha brasato questo per miracolo perché ha una protezione non lo so ma quella l'ha completamente brasata ora non mi sono perso d'animo piuttosto che andare a comprare un'altra di quelle ho risaldato tutto alla vecchia maniera certo ora è tutto saldato ho anche il regolatore per il contrasto che lì era integrato però se non altro funziona tutto è tornato tutto a funzionare valore aggiunto questo non flasha più quindi quella schedina era pure una merda quindi questo qua adesso non flasha più e funziona perfettamente anche Pippi funziona perfettamente quindi dopo due ore di smodornamenti e di ustione alle dita per via delle microsaldatore sono al punto di però almeno adesso posso mettere assieme il tutto sperando che poi non faccia schifo beh faccio sempre un casino inerrabile però alla fine qualcosina lo tiro fuori dai non è male a me piace ha il suo stile si sposa anche un laboratorio c'è il logo fisso ci sono le istruzioni in movimento suona fa sclerare Pippi mi sembra perfetto ora prima li mettono fuori sto ristampando questa la sto ristampando perché mancavano i fori sotto c'erano solamente i fori sopra per ospitarlo per agganciare questo no perché questo verrà agganciato lì attraverso questi bulloncini qua che rimangono nascosti perché coperti dalla cornice il foro per il buzzer c'è devo ricordarmi quando metto il neopreno di saltare un pezzettino per la condensa però ci siamo quello intanto è quasi è quasi via o quasi fatto dopo tutti questi casini aver bruciato la scheda aver fatto mille bordelli mi merito comunque un caffè uno di voi ha fatto una battuta sulla domotica per la casa ha detto uno di voi ha fatto una obiezione talmente cretina che non so neanche se ripete un altro invece ha detto in casa per le puzzette un come si chiama un diffusore di aromi domotico non è una stronzata a parte la prima frase della frase per le puzzette perché non mi dispiacerebbe mettere qualcosa del genere un'integrazione che ho sempre voluto fare un profumatore ambientale a me piace avere il profumo quindi intanto si accendono le candele si mettono i profumatori però la domanda è in quel caso il trigger qual è cioè nel senso quella la domotica c'entra poco io non so allora io questo diffusore qua che dice anche questo scusate non diffusore questo rilevatore di temperatura e umidità dell'IKEA che rileva anche i PM2 dalla qualità dell'aria lascia un po' il tempo che trova nel senso che non è che abbia molto senso però mi chiedo a voler realizzare qualcosa di domotico su un profumatore ambientale qual è il trigger non c'è un sensore di puzza non c'è neanche un sensore di aria chiusa è solamente temporizzato l'unico vantaggio è che domotizzandolo sapresti esattamente quando è scarico quando è carico dal punto di vista del profumatore però vabbè c'è però un'integrazione domotica che voglio fare per la casa molto molto intelligente secondo me che è una cosa che non è proprio una cosa che viene subito in mente pensare quando si pensa alla domotica allora tutti noi che abitiamo in condominio no che abitiamo in condominio no tutti quelli che abitano in una villetta privata oppure abitano in uno stabile comunque che sono tutti cazzi loro devono qualche giorno una settimana portare fuori la patomiera il calendario cambia di anno in anno nel mio caso nel mio comune cambia anche a seconda della stagionalità cambia cosa portare fuori e ogni quanto il comune il mio comune ha un sito dedicato alla raccolta differenziata su questo sito siccome il paese diciamo che è grande quindi viene diviso in zone c'è la zona blu la zona rossa la zona gialla la zona gialla mi sembra non ci sia cioè la possibilità di scaricare il calendario della raccolta e per esempio io mi sono accorto che adesso a luglio hanno introdotto un nuovo giorno di raccolta per il multimateriale che sarebbe la plastica tutte le volte quindi è il lunedì il mercoledì e il venerdì tutte le volte che io devo mettere fuori la patomiera non mi ricordo mai che cosa va fuori quel giorno il calendario sul sito del comune è scaricabile in formato csv purtroppo non sono stati così intelligenti da fare un formato calendario su home assistant è possibile integrare un calendario o locale oppure un calendario la sincronizzazione con un calendario o locale oppure un google calendar sarebbe interessante tradurre il csv del comune per la raccolta differenziata in un google calendar che è sincronizzato a home assistant mostra un avviso sulla dashboard per esempio potrebbe essere qua su cosa c'è da portafuori quando e quindi con relative notifiche qui nella scheda principale di casa sotto qua dove compaiono le robe sarebbe interessante vedere che comparissero dei 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 chips che sono questi formati qua che dicono cosa c'è ai portafuori con delle iconcine questa è un'integrazione che non richiede per esempio sensori e questo ci fa capire che non è sempre necessario avere qualcosa di fisico integrato con la domotica ci basta anche qualcosa di digitale che ci può aiutare un pelo a semplificarci la vita cioè si può veramente fare di tutto quando iniziamo a unire sensoristica fisica sensoristica digitale calendario per esempio un calendario con gli appunti immaginate io ho sempre il problema di fare benzina che rimango sempre a secco ovunque o che mi ritrovo un giorno a dover uscire partire andare a un appuntamento esco a un determinato orario per arrivare giusto e tutte le volte mi ritrovo a dover poi fare benzina e perdere un quarto d'ora di tempo sulla tabella di marcia cosa che succede sempre una roba del genere integrando quantità di benzina presente nel serbatoio del furgone calendario che mi ha appuntamenti il giorno prima mi avvisa che devo fare benzina se ho un appuntamento mi avvisa di fare benzina adesso sto estremizzando sono tutte robe abbastanza assurde da fare poi nella particità però volendo si può integrare di tutto ora aspetto che finisca di stampare questa che gli mancano cosa 5 minuti 3 minuti lo metto fuori gli diamo un'occhiata lo proviamo una volta poi questo lavoro l'abbiamo chiuso e parte il fatto che non l'ho messo a posto perché ho perso il tempo a saldare abbiamo ancora domani e dopodomani sulla domotica ma anche un bel pezzettone di oggi cosa domotizziamo adesso il mio culo comunque secondo me qui ci serve per aprire una parentesi abbiamo dato la merda all'estetica della Comelit che poi Comelit Bticino Vimar sono tutti schifosi questi citofoni qua sono tutti terribilmente anni 60 va che roba anni 60 io non ho capito perché li fanno brutti cioè fanno una scuola apposta per fare citofoni brutti o cosa sono brutti dai sono proprio anni 60 quelle robe lì quella è meglio cornice stampata e neoprene messo si incastra alla perfezione le misure non le sbaglio le tolleranze non le sbaglio mai sbaglio solo le misure generali si incastra alla perfezione ho lasciato l'aria sul consiglio della condensa adesso vado fuori e la monto guardate che roba ficcante mi hanno appena portato ieri un ragazzo della zona che è amico di Michi e Bruno o di solo Bruno comunque è amico loro ha avuto un problema con il motorino qua davanti al mio laboratorio mi ha citofonato e mi ha chiesto se poteva lasciare dentro il motorino l'ho lasciato dentro stanotte e poi è venuto a prendere il meccanico per ringraziarmi mi ha portato delle cose primo ho un'altra campana identica a quella sarà contenta Anna perché Anna voleva mettere una campanella così anche in casa sempre come il suono nel laboratorio il che direi che si può fare basta andare a staccare lo shelly sotto là e trovare il posto di metterla solo che è diversa questa non ha bobina dentro la campanella il battente è già a contatto non saprei neanche come collegarla forse quelle due non lo so non vedo molla non vedo niente sono queste due cose c'è scritto solamente 60 volt 50 hertz però non capisco se manca della roba era attaccata a un telefono mi ha detto boh non lo so ci studieremo poi sempre della serie memorabilia industriali strumento non sottoposto a verifica periodica ne è vietato l'uso in rapporto con terzi questo me lo dovrei attaccare sulla faccia questo qua me lo dovrei attaccare sulla faccia quando vado in giro bellissima questa un po' rovinata dobbiamo ripristinarla poi da qualche parte questa l'attacchiamo ma il pezzo più bello di tutti ragazzi è questo questo pannello di controllo pannello allarme fatto così ci sono questi interruttori che sono spettacolari questo è un segnalatore luminoso e segnalatore acustico ok on off sound questo qua stop al sound ok fa quello sopra ok quello sopra abilita l'allarme sia sonoro che di lampadina quello sotto solo la lampadina e poi on off e poi c'è il signal che non so bene cosa porti collegato di lì di là vabbè e poi c'è un led è bellissimo sto a fare qua questo dobbiamo usarlo in qualche progetto di domotica cioè questo va in qualche modo reso domotico per qualcosa è veramente straordinario cazzo va che bello va bene c'è anche la sua cassettozza molto industriale vado fuori a montare il citofono vediamo in quale altro problema in capo no speriamo nessuno perché non c'ho più voglia secondo me ci siamo direi che è lui ho rimesso anche la tettoia adesso ho già provato a farlo suonare e suona secondo me ci sta molto ci sta si sente anche da fuori quindi in realtà il buzzer potevamo anche evitarlo direi che abbiamo fatto un bel salto di qualità da il comelit anni 60 a sta roba crocchiata ingiallita schifosa che avevo con dentro le mdf con tanto di muffa e acqua direi che la questione è decisamente migliorata ora campanello citofono non ne voglio più sapere tutta sta merda la metto a posto domani mattina voglio solo andarmene di là con l'aria condizionata il computer e vedere cos'altro domotizzare più che cos'altro domotizzare guardare subito quello che mi deve rilevare magari sto anche di qua metto solo un po' a posto quello che mi deve rilevare quando i dispositivi vanno offline perché adesso è prioritario il campanello devo sapere quando va offline anche perché la pagina del laboratorio cioè la schermata del laboratorio deve avere una pagina dove mi dice lo status di tutto quindi conviene fare quella però prima vi faccio ridere un riso amaro l'utente che prima aveva scritto una stronzata lo chiameremo Mirko genericamente mi scrive questa cosa che stai facendo è sbagliata per due motivi uno stai parafraso uno stai comunicando quando sei assente da fuori e quindi i ladri potrebbero entrare deve essere parente di quello della zanzariera questo qua deve essere forse è lo stesso Mirko di quello della zanzariera no quello si chiamava Mirko veramente e quindi non è sicuro perché quando suonano il campanello e non rispondi non vuol dire che non ci sei va bene primo secondo con quel citofono quando va via internet non ti possono suonare e alla mia risposta no guarda non hai capito il citofono agisce in locale quindi la rete interna c'è sempre anche se non ha accesso internet e il citofono suona comunque la sua risposta è stata eh ma se ti va via la corrente no perché con un cazzo di citofono normale ti ha molto allora la prima cosa che farei giusto perché è inutile andrei a cambiare lo script quella che ho chiamato open lab andrei a torgergli l'attivazione delle luci fuori quello legato alle luci dentro quello legato all'nfc e già che ci sono spegnerei anche direttamente l'automatismo di scansione della della tag fuori tanto per il momento non ho niente a cui associarli Davide mi fa una proposta dopo l'ultima storia mi propone di chiamare l'assistente vocale Mirko invece di Anna eh eh ma sapete che quasi quasi preferisco Mirko ad Anna come assistente vocale non è male che dà solo risposte sbagliate mentre Anna si rifiuta di fare quello che gli dici di fare e vanno bene tutte e due vedremo cosa fare ora quella automazione lì per verificare che il campanello fuori sia online allora io ho bisogno di qualcosa che mi faccia il check generale se la trovo nel giro di mezz'ora bene ci sono tanti servizi esterni come vi ho detto ieri me ne avete consigliati anche uno è questo che tiene monitorato che ha anche la sua integrazione tiene monitorato tutto ha ovviamente un prezzo perché dall'esterno va a fare un ping su eh sui sui dispositivi eh milliloganti tre member 20 20 10 job bisognerebbe capire effettivamente se nei lobbyist cosa intendono per eh 20 20 jobs se monitorare 20 dispositivi perché qua siamo ben oltre i 20 dispositivi se no anche questo genere di servizio può essere installato su un dock da parte però ripeto secondo me non ha senso dato che i dispositivi in sé inviano notifica quando sono offline cioè avvisano il home assistant ci pensa direttamente lui a vederlo usare un servizio esterno che faccia il ping dei dispositivi per me non ha non ha proprio proprio alcun senso eh l'unico problema è raggruppare tutti i dispositivi in maniera dinamica in modo tale da non doverli aggiungere tutti i sensori in maniera dinamica in modo tale di non doverli aggiungere uno a uno se trovo qualcosa nel giro di mezz'ora bene se no semplicemente faccio per ora la provvisoria del citofono che mi manda notifica eh mettendo io a mano l'entità del citofono stesso che poi mi basta in realtà solo l'entità eh sì è tutto collegato all'XP quindi è solo l'entità dell'XP32 allora niente ci sto lavorando sto facendo un template che mi trovi tutto ciò che è offline all'interno solo del 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 laboratorio il problema è che quando le bambù sono spente anche quelle sono offline quindi devo trovare un modo migliore per farlo adesso non ho più voglia di fare storie il citofono l'abbiamo portato a casa su questo sgabello mi viene il culo quadro quindi direi che ci vediamo domani con un po' di ordine e non so che cosa a domani non so che c'è non so che c'è Grazie a tutti.